tra l'altro nei tuoi fumetti tu Mussolini lo fai parlare anche con quella lingua dei fascisti che si rifaceva che è molto semplice molto popolare ma che si dà quell'aura di aulico come per ricollegarsi a una tradizione a un'antichità e darsi un tono che è però una costruzione non c'è veramente una coscienza di quel passato che si tende a mitizzare nel fascismo no no infatti no no assolutamente sono delle cose anche questa cosa qui il culto della lingua, il culto dell'italianità a tutti i costi eccetera sono delle cose che tornano anche adesso ma anche nel linguaggio adesso mi è fatta venire in mente la questione linguaggio se voi andate ad ascoltare il delirante discorso a Trieste di Mussolini quando dice che promulgherà le leggi razziali a un certo punto parla di professoroni universitari che dicono che le razze non esistono e che siamo tutti uguali ecco parlano esattamente come anche il concetto di buonista che all'epoca c'era il pietista no? cioè sono tutte è tutta una roba che torna quindi quando dicono che non è vero che cioè c'è tutto uguale però il fascismo non lo vedo solo io e quindi perché il fascismo comunque è una cosa è un rigurgito è un rigurgito sociale che torna a loop no? continua a torno di tanto torna a loop ritira fuori la testa poi succede un gran casino bisogna bisogna morire tutti quanti per farlo ritornare giù poi prima ritorna ritorna sempre sotto altre forme con altri colori eccetera eccetera ma torna grazie a tutti grazie a tutti